Ringrazia la Madonna, ringrazia la Madonna. Queste furono le ultime parole che sigillarono questa certezza infinita anche in questo frate, che ci sono tante situazioni della vita che noi neppure possiamo immaginare, nelle quali il Signore ci salva, lo fa attraverso la Madonna, attraverso i Suoi Santi, attraverso Padre Pio, ci aiuta, ci toglie fuori da situazioni davvero di pericolo reale. E allora con lo spirito di coloro che sanno rileggere la propria vita e custodiscono questi frammenti, questi momenti di paura, non solo per dimenticarli, ma perché possiamo imparare da queste situazioni, che non siamo mai buttati, scaraventati nel mondo, nel caos delle situazioni. No, anche le prove ci aiutano, ci fanno diventare più grandi e comunque ci fanno sempre sperimentare che il Signore è con noi. Questa è la certezza che mi auguro Padre Pio possa darvi anche in questi giorni, nei giorni lieti ma soprattutto nei giorni di tempesta. Grazie. Grazie. Grazie.